non posso ucciderlo ma vuoi che ho una doppia spada? no non la posso usare non giuro perché è una doppia spada? raga se mi avvicino forse mi... si mi ammazza perché? oddio cavolo raga cosa vuoi la super maschera? aspettate questa qua è la super gas maschera proprio sto parlando con le fcp raga non con le scp perché non mi ricordo che faccio le scp allora cavolo vero che sia questa raga l'avevo completamente dimenticato raga usiamo la gas masch no ho sbagliato oh non ho sbagliato sssssss tutti raga ssssssssssssssssssssssssssssssssssssss niente ube niente mi possono fare Aspetta! Oddio che è niente! Cavolo! Cazzo! 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 Dove cavolo sono i mali rettimi? Cazzo! Aspettate! Ok quindi raga aspettate, devo scappare! Andiamo a direttamente a dargli la stessa più raga che mi aiuto! Oddio! Mori! 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 Due raga! Guarda che venga anche l'altro! Qua mi scamo sempre tutto! Ok raga! Un altro tipi raga! Presto! Ok! STP280 non so chi è! Il 280 è un terreno nostro! Ice in the dark si! Col buio da stare! Però vorrei... Forse il piccone ce l'ho! Giusto o no? Oh no il piccone! Il piccone! Il piccone! Il piccone! Il piccone! Il piccone! Doi? Un piccone! Il piccone! Il particione! Il piccone! Fuori! ma che cavolo no no ok raga devi stare molto attento passami in pace ok raga non si passa raga per un attimo mi sono preso un colpo no raga maldita tu muori 180 l'essenza è 280 raga io sono troppo indisfatto però raga cioè raga io so come però non ho testato va bene raga comunque mmm cavolo devo scavare adesso raga raga aspettate ma appunto da me sono stupido raga questo drago sono troppo una napposa guarda che io credo questo qua non sia il materiale giusto stupendo farlo guardate che guardate quel cartello ma come dovrebbe essere fatto visto così e vabbè ecco perché è tutto difficile è difficile da contenere è difficile da contenere visto là che è difficile da contenere che cavolo che cavolo beh scaviamo come raga il video non finisce qua un altro cgp ho trovato visto che questo qua è proprio trovato pochissimo ma poco poco cioè anche i video anche i video degli cgp di damian durano più dei miei raga non so perché non so perché io andrò fatto tutto sul piede non so perché ancora una caverna che roba che guarda io ch see sono scgelati lì Tippin pillante sē non più che favour Ok, a cosa dobbiamo essere arrivati giusto? Sì, sì, sì No, non giro mai Appena mi ha visto, me l'ha detto Me l'ha detto, me l'ha detto Io per un attimino la voi Vedete che siete qua dentro? Ecco, che mi sa che Si guarda, sembra la schiena Dico, 0,76 Scusate, 0,76 è un altro SCP 0,73 Lui 0,76 Cioè, proprio, tanto di numeri era così Vabbè raga Quindi abbiamo visitato oggi il desennio No, no raga, me l'ho rotta Cavolo raga, casa Raga, mi distrugge casa Sto maletto Oddio raga, meglio andare Alla SCP di oggi o All'altra SCP Oddio Condor e best Raga, per il momento Oh raga Strano, mi sembra di aver visto Un sagai Beh Vabbè, ci vediamo quando lo trovo Cioè, no, non lo trovo Che un po' che Cioè Perché non ricordo bene dove è Lo devo andare a cercare bene Ok raga L'ho trovata Cioè, non lo ricordo L'ho trovata Non me lo sono ricordata Quando ho ripreso il video Ho pensato un po' Eccola, l'ho ritrovata Ecco, aspettate Dovrebbe essere da ste parti Ok Aspettate Dove è? Ma che c'è? Aspettate Prima mettiamo dell'acqua Soltate, mettiamo l'acqua Credo che dovrebbe essere messa tutta Eh Aspettate Aspettate Ma che cos'è sta cosa? Raga Oh raga Oh raga no Scrittiamo cose serie raga Cos'è l'altra cosa? Aspettate La coppia con il resto Aspettate Staviamo qua l'acqua Appunto, lo sapevo Lo sapevo raga Aspettate Che cosa è? 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 Che ti dai? Che ti dai? Che ricco? Mio raga O come faccio però Asspettate dovrebbe essere chiunque però non mi interessa ecco 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 non sei non sei ecco ma ma che c'è un 280 guardatele sto qua chissà che si deve muori veni muori dai qui era qua aspettate no qua chi c'è nessuno ma c'è quella cosa osservazione come hai fatto a scappare c'era con questo quattro sei tipo sei di sei di sei di sei di sei di sei di ma ho paura che siano due vabbè non è possibile vabbè per per sicurezza spada hai sei di sei di sei di sei di sei di sei di che 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 è il pilastro l'olio l'olio aspetta ma perché c'è non capisco perché sono così veloce non c'è un effetto c'è sono veloce non c'è non c'è perché non c'è non c'è non c'è ma quindi questa è sei di ma che sta bene beh oh ragazzi hai scritto la tua 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 se non lo so però non ho fatto un caldo Allora perché delle nevi tipo? Ehm... 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 No, 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 no. Grazie a tutti, grazie a tutti, ciao.